Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi è la terza domenica di Pasqua ed è anche l'inizio del mese di maggio, mese dedicato alla Madonna. Inizio con un breve commento al brano del Vangelo di questa domenica per poi proseguire con una breve riflessione mariana. Il brano del Vangelo in parte è lo stesso di quello del venerdì della prima settimana di Pasqua e dunque rimando a quella riflessione. Gli apostoli erano andati a pescare ma senza esito. All'alba un uomo che ancora non avevano riconosciuto sulla spiaggia dice loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. Obbediscono e prendono una grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava, ossia Giovanni, disse a Pietro, è il Signore. Notiamo subito una cosa, Giovanni è sempre il primo, il primo a credere nella risurrezione del Signore e il primo a riconoscerlo sulla spiaggia del mare. Giovanni è il primo perché è colui che ama di più. Il brano del Vangelo continua con il racconto di un pasto consumato alla riva del lago. Gesù per tre volte domanda a Pietro, mi ami più di costoro? Pietro si rattristò di questa insistenza e disse, Signore tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Egli comprese bene il significato di quella triplice domanda. Per tre volte aveva rinnegato il Signore, ora per tre volte gli viene chiesto si amava il Signore. Egli doveva riparare per tre volte il suo triplice rinnegamento. Questo particolare ci insegna che la migliore riparazione dei nostri peccati è sempre l'amore a Dio, l'amore che ci spinge a fare grandi cose per lui e per i fratelli. Oggi inizia il mese di maggio, il mese dedicato alla Madonna, scriveva Santa Gemma Galgani al suo padre spirituale. Eccoci al mese di maggio, il mese di maggio è per me il più bel mese dell'anno, il mese per me di grazie. E qualche decennio più tardi anche Padre Pio da Petrelcina, molto similmente, scriveva al suo padre spirituale, il mese di maggio è il più bel mese dell'anno, sì, padre mio, questo mese come predica bene le dolcezze e la bellezza di Maria. Il mese di maggio per me è il mese di grazie. Sia anche per noi il mese delle grazie e lo sarà se saremo generosi con la recita del Santo Rosario e con l'offerta di qualche fioretto, ovvero di qualche piccolo sacrificio per amore della Madonna. Ed è bello iniziare questo mese con San Giuseppe. Oggi infatti sarebbe il giorno di San Giuseppe lavoratore, ma quest'anno cadendo di domenica si tralascia. Domandiamo comunque a San Giuseppe la grazia di amare la Madonna come lui l'ha amata. Domandiamo a lui la grazia di vivere anche noi in unione con la Madonna, di prendere anche noi la Madonna nella nostra vita come lui ha fatto. San Giuseppe è per noi modello di questa vita di devozione mariana. Innanzitutto San Giuseppe è lo sposo virginale di Maria. Con lei visse, con lei pregò, con lei soffrì. San Giuseppe prese Maria nella sua vita perché sposo virginale di lei. Noi prenderemo Maria nella nostra vita consacrandoci a lei. Per questo mese di maggio prenderemo spunto dal libro di Sant'Alfonso Maria degli Guori che si intitola Le Glorie di Maria. Iniziamo a meditare sul primo capitolo. Se ben ricordate questa opera vuole essere un commento alla preghiera della Salve Regina e per questo motivo al primo paragrafo di questo capitolo Sant'Alfonso parla della regalità di Maria. Ella è la regina che regna accanto Gesù suo figlio. Per quale motivo Maria è la regina dell'universo? La risposta è molto semplice perché lei è la madre di Gesù, il re del cielo e della terra. Citando San Bernardino da Siena, Sant'Alfonso così scrive. Sin da quando Maria diede il suo consenso accettando di essere madre del verbo eterno, da allora meritò di diventare la regina del mondo e di tutte le creature. Se dunque Maria è la regina dell'universo, ne consegue che tutte le creature, oltre che a Dio, devono obbedire a lei, la devono onorare. A questo punto Sant'Alfonso cita ancora una volta San Bernardino da Siena, il quale così afferma. Quante sono le creature che servono Dio, tante debbono servire anche Maria, poiché gli angeli, gli uomini e tutte le cose che sono nel cielo e sulla terra, essendo soggette all'impero di Dio, sono anche soggette al dominio della Vergine gloriosa. Quella di Maria è però una regalità d'amore. Sant'Alfonso lo mette in luce molto chiaramente con queste parole. Maria è dunque regina, ma sappia ognuno, per comune consolazione, che una regina dolce, clemente, incline al bene di noi miseri. Perciò la Santa Chiesa vuole che in questa preghiera noi la salutiamo e la chiamiamo regina della misericordia. Ecco dunque il senso profondo della nostra appartenenza a Maria Santissima. In questa appartenenza a lei, in questa consacrazione che noi facciamo di tutta la nostra vita a lei, troveremo la nostra autentica libertà. E se rimarremo sempre uniti alla Madonna, dipendenti da lei, al termine della nostra vita le nostre reti saranno piene e grazie a lei giungeremo in Paradiso ricchi di meriti. Siano lodati Gesù e Maria. Siano lodati Gesù e Maria.